Ciao amici, è qualche giorno che ci penso e adesso è il momento per raccontarvi Love After Love. Libro uscito da qualche settimana per EO Edizioni, l'autrice Ingrid Persu ha scritto veramente un capolavoro. Mi è piaciuto tantissimo, una bella infoliazione, qua siamo sulle 450 pagine, che però per come è scritto, vedete che c'è anche tantissimo, tantissimo dialogo, si beve. La storia è ambientata, allora quali sono i motivi per cui lo consiglio? Uno, l'ambientazione, è ambientata nell'isola craibica di Trinidad, quindi è un'ambientazione non ordinaria, nella letteratura che arriva in Italia non si trova quasi mai, e quindi mi è piaciuto perché mi ha dato uno spaccato di luoghi, di vita, di cultura, di religione, nuovo. Certo per certi versi è assonante anche all'ecco dove viviamo noi, però mi è piaciuto proprio perché mi ha fatto vedere un pezzo di mondo diverso dal solito. Poi perché i tre personaggi, i tre protagonisti della narrazione, che sono Betty, la signora a 45enne, che la vediamo inizialmente all'inizio della narrazione, ha poco più di 40 anni, rimane sola, il marito muore, rimane solo col figlio di 5 anni, il figlio che all'inizio è appunto un bambino, ma lo vedremo crescere durante la narrazione, e poi il terzo personaggio meraviglioso è Mr. Chetan, insegnante nella scuola presso cui Betty fa la segretaria, che diventerà coinquilino. Betty affitterà una parte della casa a Mr. Chetan, e si ricostituirà una sorta di famiglia, loro tre insieme. Niente pruriginoso, Mr. Chetan sapremo subito che è omosessuale, e quindi non ci sarà del pluriginoso, ma proprio per questo c'è un nuovo modo di essere famiglia. Bellissimo, bellissimo questo. La storia non ve l'anticipo, ci sarà un colpo di scena che farà sì che solo ormai adolescente lasci la casa, e ci sarà un colpo di scena meraviglioso finale, che vale assolutamente la pena l'ha letto di tutto il libro, e non vi dico altro. L'altra cosa è che i personaggi sono così ben raccontati, che sembra che prendano vita mentre si leggono le pagine, perché hanno una personalità, non sono mai stereotipati, sorprendono sempre il lettore, c'è sempre qualcosa che non ti aspetti che accada, o che loro pensino, ma invece poi ci sta benissimo col personaggio. Però dà il proprio piacere della scoperta del lettore. E un altro fatto, e poi vi lascio alla lettura così ve lo scoprirete da solo, che io ho trovato fenomenale, è che i capitoli sono alternati. Betty, poi Mr. Chetan, poi appena solo sarà poco più che un bambino, anche lui avrà una voce con dei capitoli scritti dal suo punto di vista, che si alternano, ma tra un capitolo e l'altro, concatenati proprio perché la vicenda temporalmente scorra, c'è quasi uno spazio bianco. Quindi alcune volte, non sempre, ma alcune volte siamo noi lettori che dobbiamo capire effettivamente cosa è successo in quella mezza giornata che la Ingrid Persson non ci racconta, che i personaggi non ci raccontano con la loro voce, e quindi c'è una parte attiva del lettore in questo libro. Ci sentiamo spronati a pensare. Quindi è un bellissimo romanzo, si legge tutto non fiato, a tratti un po' malinconico. Ma va bene, a chi lo consiglio? A tutti quelli che vogliono un libro in cui immergersi e stare un po' in compagnia di alcuni personaggi, a chi vuole riflettere su temi attuali in maniera da punto di vista inaspettati e diversi, e a chi è davanti ai grandi interrogativi della vita. Cosa diventare da grande? Cosa fare da grande? Come sarà quando i figli saranno grandi? E quanto è importante mettersi alle spalle delle cose pesanti che appartengono al nostro passato, ma che non devono troppo condizionare il nostro futuro. Un abbraccio a tutti, grazie O per questo bellissimo libro, grazie Ingrid per So, molto felice di consigliarlo. Ciao a tutti!